Ciao ragazzi! Benvenuti in questo video Oggi siamo su Sminecraft Questo è esatto qua il bug draft Oppure tutto il mio blocco in descrizione Il mio blocco in descrizione Aspetta tutte le giornate Ci prendiamo lì Adesso c'è almeno delle Pantelle Ehm Ehm Questo è il 4M2B Voglialo Se non è proprio bruttissimo Questo Le provo troppo apposta per tirare brutto A me non lo faccio più brutto Sto cercando L'elidro O come si chiama Ehm Ehm Come Ehm 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 Grazie. Grazie. Sto dicendo che voglio dire che io sto facendo una mappa di una città e l'ho chiamata cittadina. Però io non l'ho chiamata, non ho iniziato con i miei amici. Perché mi faccio un link per loro? Ma perché non sale? Hai bugato! Oh! E basta! Dai, canta lì! Ora io salvodesco e facciamo la molde di SCP. Scusate, si sono cambiato ma non mi piaceva proprio per niente. Pure Lucky Block. Boh, io non faccio i Lucky Blocks. Sono più belli. Comunque, se vi chiedete che gioco sto usando per avere i Lucky Block su Minecraft e non ce li avete, beh, basta cercare Minecraft Mod. Su Google è il primo che trovate quello con questa icona, lo scaricate e poi ci saranno le mod, le mod per Minecraft. Il mio poi abbiamo dato già la prima. Ma bastava avvisarmi! Cioè, non avvisarmi in quel senso però. Non avviso il nostro video. Non avviso il nostro video. Non avviso il nostro video. non mi sono immaginate quanto è luogo che ti baghi ma io mi metto a rinasce pure in creativa questa è buggata non vale così non vale senza la creativa non è impossibile ok che mi piacciono un casino i parkour però ragazzi io concludo guarda non altro guarda non è impossibile Oh, no, 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 no. Ragazzi io concludo il video qui E uccido il creatore di queste mappe E vi dico Addio Ciao